Disponibile, pronto, anche in buone condizioni per quello che si è visto? Sì, ma diciamo già da due settimane che sono con la squadra ho fatto anche due ritiri. A Verona già stavo in panchina, poi anche forse per motivo della partita per delle convenzioni miste. Alla fine non sono entrato, però da due settimane che sto bene, onestamente non vedo l'ora di tornare in campo perché penso che ho vissuto un anno che prima non ho mai vissuto, giocando così poco, avendo questi problemi. Certo che è stato un anno particolare, per tante ragioni che non stiamo neanche qui a ripetere. Tuo personale, generale della squadra, per le note vicende societarie, però c'è la possibilità a questo punto di riscattare tutto in queste ultime gare? Sicuro, ma io ti ripeto, parlando per me ma sicuramente anche per tutti i ragazzi, quello che hai detto di vari problemi, penso che noi facendo questo mio mestiere sicuramente non è che ci riguarda tanto, nel senso che noi si scende in campo, c'è questa possibilità, perché come calcio ora penso che dobbiamo ringraziare tutti che comunque almeno abbiamo possibilità di avere una squadra, quindi parlo personalmente, quello che è successo fuori sicuramente è un problema, però non è che pesa così tanto vedendo la situazione, la possibilità che con una piazza del genere si può fare bene, quindi quello passa forse all'ultimo posto. Adesso cerchiamo comunque di finire sto campionato con testa alta e sicuramente sorprende anche sia noi e sia tutta la città, perché penso che fare un grosso passo, arrivare come prima cosa a playoff è la cosa forse più bella, come hai detto, visto condizioni e problemi in generale, quindi noi cerchiamo di arrivare là e poi continuare.